Si fa presto a fermarsi in officina, ma avete mai pensato alla logistica che sta dietro alla richiesta di un semplicissimo pezzo di ricambio originale? Scopriamolo con il nostro gradito ospite di oggi. Buonasera cari telespettatori, in questa puntata di Safe Drive andremo a trattare argomenti nuovi e vengo subito a presentarvi nei nostri studi Fabrizio Guidi, presidente di Asconauto e andremo subito a capire di cosa tratta la sua associazione. Buonasera, ben arrivato dottor Guidi, dicevamo Asconauto, iniziamo a definire questo acronimo di questa società e di cosa vi occupate? Diciamo che Asconauto è un'associazione nazionale costituita dai consorsi dei concessionari che si sono dati l'obiettivo ormai insieme 12 anni fa di condividere la promozione e la consegna dei ricambi originali di tutti i marchi presso gli autoriparatori, quindi officine, carrozzerie. È una presenza che è diffusa in tutto il territorio nazionale, sostanzialmente oltre 20 consorsi, 800 concessionari soci di questi consorsi e 15.000 fra autoriparatori, officine e carrozzerie che utilizzano i nostri servizi. Perciò mi sembra di capire che lei ha il dedicato ruolo di creare delle sinergie da quelli che sono i concessionari e gli autoriparatori, ma anche con una grande attenzione a noi che usufruiamo del mezzo. Com'è la situazione in questo momento? Diciamo che la situazione nel momento in cui ormai sono cinque anni di crisi profonda del settore che ha portato a rivedere politiche commerciali. Il mondo della commercializzazione e del ricambio originale invece ha avuto uno sviluppo che ha continuato a essere costante, nel senso che il nostro fatturato, che quest'anno sostanzialmente sarà un fatturato di circa 400 milioni di euro, quindi facendo un ennesimo record di commercializzazione del ricambio originale, è un segnale importante. Questo segnale vuol dire che il parco autocircolante sta invecchiando, c'è più bisogno di ricambi perché il nostro portafoglio si sta asciugando e c'è maggiore attenzione per le nostre auto. Che il parco auto stia invecchiando è un dato credo ormai appurato, nel senso che se noi nel 2007-2008 siamo arrivati a un 2 milioni e mezzo di parco circolante e realisticamente si parla di 1 milione e 100 milioni e 3 ma il dato effettivo forse anche sotto il milione allo stato attuale, capite che il nuovo sarà molto meno circolante in futuro, quindi si tenderà a tenere di più la macchina, a usarla di più, quindi ci vorrà più manutenzione. Questo potrà avvenire presso i concessionari soci, chiaramente questo è l'auspicio di chi svolge questo lavoro eccetera, ma noi siamo il tramite che permette anche di avere la possibilità al cliente di avere la stessa qualità del ricambio originale anche presso l'autoriparatore vicino a casa. E oltre alla qualità, questa ottimizzazione logistica e distributiva permette anche un risparmio per l'autoriparatore e poi di conseguenza anche per noi che ne usufruiamo? No, è chiaro che il risparmio maggiore ce l'ha l'autoriparatore che non è costretto sostanzialmente a prendere la mattina e a partire andarsi a cercare i ricambi per le macchine che ha in officina perché comunque il nostro servizio che conta 300 mezzi sul territorio nazionale permette di avere sostanzialmente i mezzi che in ognuno di questi consorsi fanno la mattina il giro dei concessionari ad eventi al consorzio per ritirare i ricambi e consegnarli poi ai singoli autoriparatori secondo gli ordini che hanno fatto. Nella ricambistica abbiamo parlato di parti meccaniche ma ci sono indubbiamente anche le parti di carrozzeria e leggevo in un vostro comunicato di questa tensione nei confronti del consumatore contro le famose lobby assicurative perché ultimamente si è parlato molto di questo problema io ho un'assicurazione io subisco un danno un incidente e il mio assicuratore mi manda per avere rapidamente un risarcimento da dei punti delle carrozzerie che però non sono libere ecco voi come vi posizionate a tal riguardo? Noi diciamo è chiaro che per noi ci sono delle procedure che non sono solo quelle di utilizzare il ricambio originale le procedure e le raccomandazioni sono di utilizzare il ricambio originali e le procedure di montaggio e di ottimizzazione nell'utilizzo del ricambio che siano che sono frutto anche di corsi di formazione di momenti di formazione da parte delle case queste cose vengano fatte coscientemente dai concessionari e dagli autoriparatori di qualità che scelgono anche di utilizzare il ricambio originale noi crediamo che fare accedere a questo tipo di servizi debba essere una libera scelta da parte del cliente finale non è possibile che ci sia un'assicurazione ci siano assicurazioni che invece tendono a creare meccanismi di risparmio in valore assoluto per loro minore per il cliente finale ma andando poi a imporre soluzioni con ricambi che non sono originali con procedure che non sono quelle stabilite e garantite dalla casa e quindi creando anche tutta una serie poi di ulteriori risparmi quindi creare il massimo dei risparmi possibile con la conseguenza che si riduceva al minimo la sicurezza e la libertà di scelta da parte dell'autista di dove servirsi da chi servirsi e che servizi utilizzare. Volevo concludere con una domanda Asconauto è una realtà che è in Italia da quasi 20 anni lei però è arrivato alla presidenza in tempi più recenti ci può raccontare un cambio di pelle all'interno di Asconauto con la nuova presidenza? Ha delle idee particolari? Intanto diciamo che tutto quello che si fa oggi è frutto di quello che è stato fatto fino adesso noi abbiamo cercato e stiamo cercando di fare in modo che l'associazione stessa possa valorizzare questo quanto ha ottenuto fino adesso nel senso quanto ha ottenuto di fiducia e di attenzione da parte dei concessionari e possa restituire loro tutti quei servizi tutta quella collaborazione tutti quegli incentivi a continuare a sviluppare le nostre idee la commerciazione del ricambio originale ma oggettivamente magari possiamo trovare anche degli altri servizi o noi ci siamo adesso impegnati anche sul discorso di acquisto di pacchetti di utenze o cose del genere eccetera che per esempio possano permettere di offrire a concessionari anche l'abbattimento dei costi. Bene, mi sembra dunque doveroso concludere con un in bocca al lupo per il proseguo del suo mandato un in bocca al lupo al nostro e mi metto anche io dentro il mercato dell'automobile che ancora gli ultimi dati lo vedono un po' in affanno buon lavoro e grazie di essere stato qui con noi. Grazie dell'attenzione. Auguri.